Sabato 28 gennaio alle ore 14, presso il piazzale della stazione di Padova, è stato convocato un corteo, una manifestazione, per chiedere verità e giustizia per Usama Ben Reba e per tutte le vittime di razismo istituzionale. Questo corteo è stato chiamato dal CAI, che è il coordinamento antirazzista italiano di cui facciamo parte, che è un coordinamento costituito da soggetti razzializzati, che è nato solo quest'estate a seguito dell'omicidio di Anika Borciucu, per poter esprimere da un posizionamento incorporato, per poter esprimere a partire da delle voci che sono quelle più legittimate a parlare della quotidianità che vivono di razzismo istituzionale, di razzismo strutturale e di razzismo quotidiano. Esatto, abbiamo deciso di convocarci a Padova da tutta Italia, lanciando un appello nazionale per la manifestazione di sabato, proprio perché vogliamo che le nostre voci e i nostri corpi siano testimoni di questo razzismo, ma non solo, anche del nostro modo di resistere. Ed è ora, ed è questo il momento, che ci riprendiamo la nostra voce e le nostre strade per rivendicare che il razzismo istituzionale uccide, uccide in molti modi, ma uccide anche in modi sottili ogni giorno. Non solo Usama Berrebha, ma moltissime altre persone. Negli ultimi giorni abbiamo visto notiziari di moltiplici forme di violenza e Usama Berrebha purtroppo è solo l'ultimo nome di una lunga lista di persone uccise dal razzismo.